Si chiama Estra è diversa, il progetto portato avanti dalla psicologa Elisa Marcheselli, presidente di ERA, in collaborazione con la Casa di Pietro di Pieve San Giovanni e la Scuderia di Pan, finanziato da Estra e dal Comune di Arezzo. La finalità principale è favorire la socializzazione tra i cosiddetti normodotati e coloro che invece hanno delle disabilità. La nostra missione è quella di inclusione e di integrazione dei bambini più fragili con l'altro tessuto sociale dei pari. Il progetto è organizzato con delle attività strutturate ad hoc che vede insieme la sinergia con i professionisti e con altri operatori di altre associazioni. Siamo felici di poter proseguire in queste attività grazie alla sensibilità di Estra e dell'amministrazione comunale, che è una sinergia vincente per rispondere a un bisogno necessario delle famiglie in questo momento, purtroppo messi a dura prova dal lungo periodo che abbiamo superato all'interno della pandemia del Covid e soprattutto per cercare di marginare tutti i rischi psicosociali che derivano da questa piaga attuale che stiamo vivendo. Io ringrazio la dottoressa Marcheselli perché ci ha riproposto questa bella progettualità che ci consente, che consente ad Estra di continuare a distinguersi come azienda di prossimità vicino al territorio, che investe e contribuisce anche a delle bellissime iniziative che vanno nel segno del recupero di una vitalità dei nostri bambini più fragili e quindi è un bellissimo gesto di una grande intensità e siamo molto orgogliosi di continuare a sostenere questa progettualità, tra l'altro corroborata dal contributo di tante altre associazioni, il sostegno importante dell'assessorato delle politiche sociali. I nostri bambini, soprattutto quelli fragili, sono una categoria che più ha sofferto il lockdown, questa fase di assoluta difficoltà. È un piccolo aiuto, non daremo sicuramente risposta a tutti i bisogni di questa natura, però è una candela che si accende nel buio di tanti bambini che sono stati costretti, con famiglie in difficoltà, a rimanere in casa e quindi è una bella cosa che dimostra quanto Estra sia socialmente responsabile e che in questo periodo è giusto investire più che altro in questo tipo di iniziative sociali. Qual è la fascia di età che verrà coinvolta e come i normodotati interagiranno con i ragazzi che invece hanno disabilità? All'età coinvolta noi abbiamo campi solari che vanno dai 6 anni ai 16 e fuori quota, nel senso che abbiamo dato anche una preferenza di iscrizione anche a coloro che hanno un'età più adulta dal punto di vista anagrafico, ma avendo una disabilità intellettiva ovviamente hanno delle abilità ridotte e quindi è inclusivo anche in quello, quindi il fatto di prendersi cura rientra anche in quello. Quindi le attività sono attività dove tutti partecipano a tutto, divisi sempre in gruppi, dove nei piccoli gruppi c'è sempre la presenza di uno barra due ragazzi con disabilità insieme ai normotipici, in modo tale che vengano proprio coinvolti e quindi vengano aiutati anche nell'aiuto ai compiti e includere il momento del pranzo è proprio stata un'idea l'anno scorso vincente perché è il momento di convivialità per eccellenza e quindi in quel momento c'è una gran caciara però insomma loro si divertono, è giusto che sia il loro momento anche in quel momento lì. Ecco, come gli animali, in questo caso i cavalli aiuteranno i ragazzi? Aiuteranno i cavalli perché diciamo i ragazzi, il cavallo è un amico speciale, è un trascinatore per eccellenza che riesce a metterti di buon umore anche solo salendo in sella e poi spazzolandolo, accarrezzandolo. In questo momento molto difficile soprattutto per i ragazzi e i bambini con disabilità può essere un importante collaboratore e insieme a lui anche tanti altri animali, conigli, anatre, sempre in mezzo alla natura.